Ho prescritto alfa bloccanti e l'ho inserita nella lista ambulatoriale. Se avesse bisogno di qualunque cosa, mi chiami. Faremo di tutto per assisterla. Grazie. Ehi. Ci ho provato, mi dispiace, io... Me la caverò. No, il dottor Weber mi ha passato dei campioni omaggio, per un po' sono a posto. Bene, bene. Allora... Buona fortuna. Io ho una buona assicurazione sanitaria. Infierisce su uno già a terra? E intendevo che mi... Intendevo dire che ti sposo. È un'offerta molto generosa. Ma non posso... Sono un medico. Ho fatto un giuramento e non posso lasciarti così ora come non potrei lasciarti ferito a morte in mezzo alla strada. Questo è assurdo. Te ne rendi conto. Te ne pentirai amaramente il giorno dopo. Morirai. Harry, morirai. E non sei senza speranza perché io posso aiutarti. Dico sul serio. Ti sposo.